Mi chiamo Francesco Sanapo e quello che faccio nella vita, o meglio la missione che ho nella vita è quella di cercare di dare maggiore valore al caffè. Il caffè è un prodotto magico, il caffè pensate unisce popoli, culture, il caffè è quella cosa che modifica il risveglio di ognuno di noi, dà più energia, il caffè è quel prodotto che unisce le persone, ecco perché è di fondamentale importanza nella nostra quotidianità. Da parte mia quello che devo cercare in tutti i modi è di far sì che questo caffè rimanga tale per tutto il corso della storia, perché oggi stiamo rischiando tantissimo, oggi tutti i giorni rischiamo che il caffè sparisca da questa faccia della terra, è un qualcosa di tristissimo, e l'unico impegno che noi realmente possiamo mettere in gioco è quello del valore, dare maggiore valore a quel momento, a quel sorso, a quel gesto simbolico che è condividere un caffè insieme all'amico piuttosto che nella nostra quotidianità.